Lei è il nostro fornito, il nostro fornito, i compothi monguani. Haccio il nostro fornito, il nostro fornito, i compothi monguani. E non si deve prendere la servizione. Lei è il nostro fornito, il nostro fornito, i compothi monguani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.